ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi studieremo questa bellissima torre un po così così fatta da mio babbo o papà come volete voi e senza dire troppe parole iniziamo subito allora prendiamo sempre più forte di tutti e ancione e adesso faccio un lancio da quelli potenti alla prima questa è una costruzione mia è tipo quella quella di primo in ordine numerico cioè lasciamo stare le parole allora adesso uso rosino rosetto rosino rosetto il nostro amico adesso faccio coltivo proprio su rosino rosetto ok ora ancora non è spaccata adesso c'è l'erba verde 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 manca poco ragazzi uso rosino rosetto questo regolo qua se no si chiamerebbe regoli da quattro ma io li chiamo un po così a fantasia ok ancora non è finito noi uso rosino rosetto non ce l'ho fatto vabbò e per adesso basta ciao ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video e ciao